vogliamo parlare un po di calcio giocato dai vi faccio questo bel video sulla serie b domani o mercoledì facciamo quello sulla serie c prima di perdermi in un boca giugno l'atletico tucuman che non ho visto stanotte per ovvi motivi mola tv mi raccomando una bella tv c'è sta campionata argentino olandese greco cipriota altri sport come il rugby facciamo una marchetta per chi ama il calcio dai proviamo a parlare un po di calcio giocato parliamo di serie b allora frosi non è sempre più a bene spiegate verso la serie a vince sul calcio di rigore con il benevento 1 a 0 benevento in piena zona retrocessione sottolineo già io la volta scorsa dissi che non c'è un bel clima per nulla benevento quindi considerate le ambizioni di inizio stagione qua non so cosa si siano messi in testa i vigorito ma qui c'è tutta area quasi di smobilitazione a proposito di juventus e del video di stamattina frosinone frosinone continua ennesimo clean sheet casalingo ennesima vittoria in casa vince in casa e non perde fuori otto punti di vantaggio sul genoa secondo in classifica che ha pareggiato col pisa se c'è una formazione che veleggia ve le spiegate verso la serie a questa è la squadra di fabio grosso che io e io vedo molto bene in un futuro forse neanche tanto lontano sulla panchina della juventus mi piace come la solidità delle sue squadre io se devo scegliere un allenatore giovane punterei su fabio grosso che mi sembra un allenatore che potrebbe fare al nostro caso in un'eventuale rifondazione ok con i giovani genoa pisa 0 a 0 e la regina perde a bolzano con la su tirol ora la lotta per il secondo posto che vale ricordo la seconda promozione diretta in serie a si fa sembra una corsa al ciapano il genoa che aveva che aveva trovato una certa continuità si inceppa con il pisa in casa ridotto in 10 sullo 0 a 0 veramente nella zona alta della classifica nella zona play off seconda promozione diretta si sta un po sta un po' evolvendo la situazione io continuo a ritiene il genoa come favorita per andare a far compagnia al frosinone come come promossa in serie a mentre vedo grandissima bagarre e sta risalendo il cagliari in zona play off e sta risalendo il cagliari occhio al cagliari ranieri è forse il migliore allenatore al mondo nel prendere le squadre in corso d'opera a campionati in corso forse il migliore al mondo perché riesce e non è la prima volta riesce a trasformati una stagione io ricordo con la roma la presa che aveva zero punti due partite e la porta sfiorare lo scudetto col parma che era praticamente in serie b e lo salva con e tante altre robe tante altre robe davvero ranieri quando prendere le squadre in corso i risultati li ottene sempre e il cagliari che la squadra ce l'ha e che ha un allenatore gestore il cagliari onestamente con la squadra che ha non può non non finire per lottare anche per la promozione diretta se il genoa continua a fare i suoi riprende a fare i suoi alti e bassi che aveva prima dell'arrivo di girardino poi c'è sta su tirol la regina che comincia a mordere il freno ma che la regina non fosse la serie a e apparecchio che ve lo dico o no su tiro non come non lo è ne manco la su tirol sta facendo un grande campionato con bisoli suppongo si fermerà lì bari capitolo bari che pare dicono abbia preso sebastiano esposito ora bari bari una società ambiziosa non so se punterà con convinzione alla serie a già quest'anno io penso che dal prossimo anno dal prossimo anno perché i de laurenti sono bravissimi nel pianificare le robe io so che per me stanno gettando le basi per un grande campionato il prossimo anno il prossimo anno secondo me il bari sarà la grande favorita per salire in a quest'anno ci sono squadre più esperte squadre più continue ecco il bari sta cadendo nella sindrome parma una vittoria una cagata una vittoria una cagata sindrome parma il parma è stato capace di resuscitare il cosenza addirittura che ha giocato per mezz'ora in dieci in uno stadio mezzo vuoto il parma è riuscito a perdere in casa di questo cosenza qui ha preso una traversa che sta ancora tremando però se tu hai ambizioni a cosenza devi andare a vincere cosenza che non vinceva da una vita addirittura dove tal cortinovis entra e in due tre minuti si becca due gialli e becca l'espulsione cioè quando il parma riesce a perdere con un avversario in simili condizioni ultimo in classifica col pubblico in contestazione la società che non lo so è un po nel mirino quando tu mi riesci a perdere in quelle condizioni e allora sei tu che non ci vuoi andare in a ma il parma non ha la scuola per andare direttamente in a magari ti fa l'expload nei playoff ma non ha la scuola per andare direttamente in a è troppo discontinua troppo discontinua e anche il pisa aveva fatto una bellissima rimonta prima della sosta e adesso si è di nuovo arenata mentre sta salendo e io ve l'avevo detto e io ve l'avevo detto e io ve l'avevo detto il palermo il palermo ve l'avevo detto che sarebbe che sarebbe arrivato in zona playoff il palermo ve l'avevo detto più a inizio campionato quando era nei bassi fondi della classifica ve lo dicevo io ragazzi occhio al palermo occhio al palermo e ora sta salendo e questo ci dice come questo è un ennesimo campionato fantastico di serie b che veramente ti concilia con tutta la merda che stiamo vedendo in serie a ti riconcilia con il calcio con tutta la merda che stiamo alla quale stiamo assistendo in serie a veramente e poi c'è parlando delle posizioni nell'imbo sta risalendo il como ma è inevitabile che il como risalisse il como secondo me ha rispetto al suo potenziale almeno 6 7 8 punti meno di quelli che dovrebbe avere perché è una squadra con dei valori è una squadra con dei giocatori importanti e ha vinto a brescia e la derby all'andata ci aveva perso in casa cioè poi la serie b è un campionato dove ve l'ho sempre detto alla lunga i valori vengono fuori la serie b non è la serie a che dove magari una grande team cap in una stagione balorda come il nostro caso la serie b in serie b se sei forte prima o poi vieni fuori perché è una maratona è una maratona la serie b è così è così in serie b devi lottare punto a punto e se sei una squadra di categoria con l'allenatore giusto prima o poi vieni fuori il como ha a grosse ambizioni e ma non sarà evidentemente per quest'anno perché ha troppe troppi alti e bassi ora anche se in questo girone di ritorno si sta però mai stabilizzando discorso del como io ho già parlato del benevento prima che introduce il discorso sulla zona salvezza vi dissi del brescia che è in caduta libera il brescia di questo passo finisce dritto in serie c il brescia di questo passo finisce dritto in serie c e l'altra che deve stare attenta è l'ascoli l'altra che deve stare attenta è l'ascoli signori è l'ascoli il brescia è in caduta libera oramai l'ascoli a qualche valore ce l'ha anche se quella sconfitta col palermo le cose si complicano non poco sì signori ma così anche perché ad oggi non c'è non è come lo scorso anno dove avevi già due tre squadre staccate negli ultimi posti anche se il vicenza ti fa il miracolo che ti arriva il play out ma grazie più che altro al suicidio dell'alessandria l'anno scorso ti arriva il play out il vicenza non è come l'anno scorso che avevi pordenone e non ricordo chi altri che praticamente a metà campionato era già retrocessa quest'anno vedi il cosenza che ti batte il parma vedi il cittadella che comunque ti fa risultato a venezia che è messo male il venezia però il venezia è un'altra di quelle squadre che ha quegli strappi che magari che ti vince quelle due partite di fine rientra in lotta il perugia il perugia il perugia il perugia tra le squadre più più scarse della serie b ma un ma un allenatore di categoria che ti viene a vincere a bari merita ta mente merita ta mente perché il perugia a bari ha fatto una grandissima partita quindi ed è prepotentemente rientrato vedete cosa fa un allenatore in serie b un allenatore esperto e non questi arzigogoli che accettiamo nel calcio moderno vedete cosa ti fa un allenatore esperto ti ti cava da una squadra ti cava da una squadra quello che è un allenatore emergente se non ha la giusta sintonia con il gruppo non riesce mai e poi mai a cavarti vedete e castori è l'uomo adatto per provare riuscire a salvare il perugia e con signori con un brescia in caduta libera con un benevento che è messo come è messo la spal bene o male sta anche se ha perso a cagliari comunque se l'è giocata la spal comunque della quale ribadisco dei rossi aveva un grande futuro hanno preso anche nainggolan per me sbagliando ma comunque questo ci indica come la squadra abbia una società comunque ambiziosa ha un buon allenatore che per me dei rossi sarà un buon allenatore stavo dicendo riferito al perugia con squadre come il venezia con squadre come cittadella con squadre come il cosenza con il brescia che in caduta libera l'ascoli che in crisi l'ascoli che in crisi certo che può puntare a salvarsi il perugia il perugia signori io per primo lo davo per spacciato per mesi l'ho dato per spacciato il perugia ora invece è tutto rimescolato per una serie b che frosinone a parte frosinone a parte che ha fatto della regolarità della solidità il suo marchio di fabbrica e se resta questo il prossimo anno è la volta buona che si salva in serie a frosinone a parte la b la serie b è un campionato bellissimo come quello dell'anno scorso e io vi invito a iscrivervi al canale a seguire questi video perché sono altrettanto importanti ci sentiamo domani o dopo domani per la serie c io mi spacco bocca junior atletico tucumano iscrivetevi al canale ciao